Parliamo di un racconto che è già un classico della narrativa italiana del novecento. Fu scritto nel 1929, ne fu autore Gianni Stuparic. Il racconto si intitola Un anno di scuola, ne è appena uscita una nuova edizione per l'editore italiano Corlibet, ma c'è anche in giro una edizione a Einaudi che si accompagna ad altri brevi racconti, racconti istriani di questo autore, che è un autore triestino, fece parte della fecondissima stagione letteraria e culturale di Trieste, d'inizio novecento. Il racconto uscì nel 1929, piacque molto, piacque in particolare a Eugenio Montale, che lo apprezzò moltissimo appunto, e la storia si svolge nel 1909. È un po' autobiografica, perché questa cosa accade proprio a Gianni Stuparic. Il protagonista del racconto è Edda, una ragazza strana, anticonformista, metà slava, metà austriaca, che viene ad abitare a Trieste con la famiglia, lei è stufa del suo collegio femminile, vuole andare all'università, per andarci deve fare un esame di ammissione, fare un ultimo anno di liceo, in un'unica classe, allora a Trieste, di maschi, che da anni sono sempre insieme compagni di classe, e per quell'anno di scuola, l'ultimo, prima dell'università, vedono entrare in classe, la prima volta che accade a Trieste, una ragazza. La cosa li destabilizza, la ragazza è anche carina, anticonformista, intelligente. E certo, lei spaia il gioco, insomma, lo spariglia, i ragazzi tutti ne sono colpiti, qualcuno se ne innamora, più di uno, qualcuno ne ha timore, addirittura certe amicizie maschili, gruppetti, vengono un po' destabilizzati da questa ragazza che entra a sorpresa, stupefacendo, meravigliando, inquietando, attirando. Il protagonista maschio, insieme a lei, che è la protagonista femminile, è Giorgio Antero, che è l'alter ego dello scrittore, il quale veramente visse un amore, un innamoramento di questo tipo per una vera compagna di scuola, perché poi succede che Antero è ricambiato nel suo innamoramento dalla ragazza, con tutta la goffaggine degli inizi, le timidezze, ma poi le passeggiate sulle colline, nella campagna, nella città di una Trieste molto ben descritta, con le sue luci, le sue stagioni, i suoi rapidi temporali, i suoi cieli così cangianti, e poi le cose si complicano un po', non ve le racconto, qualche compagno innamorato non ricambiato pensa persino di metter fine alla propria vita, pensate un po', e alla fine dell'anno scolastico ognuno poi, dopo un ultimo incontro, si avvia verso le piste, il destino riservato per ciascuno di essi. Questa iniziazione alla vita, questo passaggio all'età adulta, questa inquietudine, questo incontro sentimentale, questa attrazione anche un po' di sessualità ben controllata, sono descritti come fatti naturali nella vita di un anno scolastico a inizio novecento a Trieste, ma sono universali perché sono accaduti mille volte, possono ancora accadere così come sono accaduti davvero a Gianni Stuporic. Un bel racconto per la compattezza, per la delicatezza stilistica, per le pennellate di natura, di paesaggi e per lo scavo preciso dentro l'animo ancora in forme, ancora in divenire di questi ragazzi sulla via del novecento che non sarà così facile per quelli che stanno a Trieste perché di lì a pochi anni scoppierà la prima guerra mondiale.